Spero di essere chiaro, non c'è nessun atteggiamento antitedesco. Io stimo la Germania, sull'alternanza scuola-lavoro l'abbiamo copiata, sul Jobs Act no perché abbiamo fatto meglio, però su tante questioni mi piace discutere. Certo, vorrei che la Germania facesse gli investimenti e portasse la fibra ovunque. E non perché magari c'è un'azienda italiana che vince l'appalto, ma perché penso che se la Germania fa un grande investimento sulla fibra, quella parte di surplus commerciale che oggi aviene ridotta e l'economia europea va un po' meglio. Ma sto semplicemente richiamandomi alle regole del gioco. Quindi, per cortesia, quando si parla dell'Italia, abbiate consapevolezza del fatto che il nostro Paese ha posto il proprio onore sulla reputazione. E vorrei che andaste a vedere quanti erano le infrazioni quando noi abbiamo iniziato, 121, marzo 2014. Gozzi ha la data d'orologio biologico sul suo ingresso, cioè per Gozzi il primo giorno del governo non è il 22 febbraio quando ho giurato io, ma il 2 marzo quando ha giurato lui. Bene, lui al 2 marzo del 2014 ad oggi siamo passati da 121 a 74 procedure di infrazione. Molte delle quali... 119 e 73. Lei portate via 3D nascosto. Va bene, 119, il numero ve lo dà lui preciso, perché poi lo cambia a seconda del giorno d'inizio. Ma comunque c'è una riduzione che è sostanzialmente di un terzo più o meno, anzi qualcosa di più. Ecco, vorrei che di questo ci fosse consapevolezza. Detto questo è stato, ripeto, un consiglio ordinario. Mi auguro che tutti noi, anche come rappresentanti della stampa, della politica e del mondo libero, sappiamo riconoscere come l'atteggiamento che noi spesso ci autocostruiamo nel rapporto con l'Europa è tale per cui se si va in Europa bisogna stare zitti e dire di sì, se no si fa confusione, se no si fa polemica, se no si è giamburrasca. Da queste parti non ci sono Don Quixote. O se volete non ci sono Giamburrasca. Don Quixote è meraviglioso, ma un po' troppo spagnolo. Da questa parte non c'è Giamburrasca che è invece molto più fiorentino. Non c'è qualcuno che alza il dito per fare polemica. C'è qualcuno che difende l'interesse nazionale perché l'interesse nazionale è un valore per l'ideale europeo. Non è in contraddizione l'ideale europeo. Sfido altri leader di Stato e di governo ad essere più europeisti di noi.